L'Istituto Comprensivo Domilani di Lanciano ha organizzato un importante incontro nell'ambito del progetto di educazione alla legalità promosso dalla scuola. L'iniziativa è parte integrante del piano dell'offerta formativa ed è mirata a valorizzare l'educazione civica, promuovere il rispetto della legge e la convivenza civile. Ospite dell'evento, il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Chieti, il colonnello Michele Iadarola, che ha illustrato agli studenti delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado, anche attraverso un interessante ed esaustivo video, l'importante ruolo della Guardia di Finanza e le azioni quotidiane svolte dalle fiamme gialle per garantire il rispetto della legge. Effettivamente il percorso che abbiamo iniziato con le scuole non è un percorso voluto solo dalle scuole, ma è anche la Guardia di Finanza che proprio quest'anno festeggia i suoi 250 anni di storia e ritiene che presso le scuole il messaggio della legalità e della sicurezza economico-finanziaria abbia la necessità di iniziare presso i ragazzi a lasciare un segno, perché è proprio in questo momento in cui i ragazzi sono più malleabili e possiamo definirli più spugne addirittura per assorbire questi concetti che possono sembrare anche articolati, tecnici, ma capire oggi che se tutti ad esempio pagassero le tasse i servizi pubblici sarebbero più efficienti, così come se tutti pagassero le tasse lo Stato non avrebbe l'esigenza di modificarne periodicamente la richiesta di prelievi aggiuntivi perché ovviamente ci sono dei servizi pubblici che devono essere necessariamente assicurati e questi incontri che stiamo facendo presso le scuole vogliono proprio istruire i ragazzi partendo proprio dall'articolo 53 della Costituzione dove viene manifestata la volontà di uno Stato sano come il nostro e come hanno voluto i padri fondatori della Costituzione ispirarsi proprio al concetto che tutti devono contribuire alle spese dello Stato in ragione delle loro potenzialità, non di più e non di meno ed è proprio questo che i ragazzi sin in questa età così giovane devono cominciare a capire che la contribuzione e quindi il pagamento delle tasse è sì un sacrificio ma un sacrificio che viene totalmente retribuito o comunque remunerato in servizi pubblici che ovviamente lo Stato restituisce a loro stessi. La dirigente scolastica Barbara Gaspari ha ringraziato il colonnello Iadarola per il suo intervento e per l'impegno costante della Guardia di Finanza sul territorio ha sottolineato come questo impegno sia cruciale per garantire la sicurezza e prevenire e reprimere fenomeni di illegalità la preside ha rimarcato l'importanza di dare vita a scuola a questi momenti di sensibilizzazione Il progetto rappresenta un tassello cruciale per la formazione dei giovani evidenziando il valore dell'educazione alla legalità sensibilizzare gli studenti sui temi come rispetto delle leggi e la lotta contro l'illegalità è essenziale per costruire una società più giusta e consapevole Questo incontro si inquadra dentro un percorso di educazione civica che abbiamo progettato e pianificato da quest'anno proprio incentrato sull'educazione alla legalità quindi i ragazzi hanno fatto diversi incontri anche con i carabinieri hanno partecipato al concorso della Polizia di Stato vincendo anche due primi premi sulla scuola primaria e la scuola secondaria e oggi finalmente concludiamo questo ciclo di interventi con il comandante provinciale della Guardia di Finanza per noi è un'occasione importantissima è un'opportunità grande per dare appunto contezza ai ragazzi di quanto effettivamente sia importante la legalità e quanto appunto le figure istituzionali contribuiscano in maniera efficace a fianco dei cittadini a fare in modo che la legalità venga rispettata Oggi sarà anche l'occasione per fare orientamento sulle classi seconde della scuola secondaria di primo grado e le classi terze proprio appunto con questo intervento del comandante